Grazie a tutti. E proseguendo le rivelazioni che il Sacro Cuore gradualmente fece a questa straordinaria santa, appunto per introdurla piano piano dentro questo grandissimo mistero, passo passo illuminando degli aspetti ulteriori fino a rendere diciamo complete queste rivelazioni, prima di consegnarle come fece alla Santa Chiesa perché potesse poi approfondirne il significato e stabilirne il culto in essa, operazione che grazie a Dio ad oggi è stata egregiamente compiuterne che noi dobbiamo soltanto riprendere, ravvivare, comoscere meglio, comprendere e soprattutto vivere. Siamo alla terza apparizione stasera di cui ora sentiamo il racconto, è un'apparizione di cui non conosciamo, come già quella della volta scorsa la data, ma che ebbe luogo durante un'esposizione del Santissimo Sacramento, stesso contesto che stiamo vivendo adesso, probabilmente nel luglio del 1674. Dopo che mi senti tutta assolta nell'intimo del mio essere, per un raccoglimento straordinario dei miei sensi e delle mie facoltà, Gesù Cristo, mio dolce Maestro, si presentò a me tutto splendente di gloria, con le sue cinque piaghe sforgolanti come cinque sogni. Da questa sacra umanità uscivano fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo adorabile petto, che rassomigliava a una fornacea. E dopo averlo scoperto, mi scoprì il suo amante e amabilissimo cuore, fonte viva di quelle fiamme. Fu allora che mi svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore, e fino a quale eccesso questo lo aveva spinto ad amare gli uomini, dai quali non riceveva in cambio che ingratitudini e indifferenze. Questo mi ferisce di più, mi disse, di tutto ciò che ho sofferto nella mia passione, in quanto se mi rendessero un po' d'amore in cambio, stimerei poco tutto ciò che ho fatto per loro, e verrò, ti vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non hanno che freddezze e ripulse per tutte le mie premure a far loro del bene. Tu, almeno, guarda, dammi questo piacere di sottire alle loro ingratitudini, per quanto potrei essere capace. Confessando la mia impotenza, mi rispose, guarda, ecco con che soffrire a tutto ciò che ti manca. E allo stesso tempo, essendosi questo divincuore aperto, ne uscì una fiamma così ardente che pensai di esserne consumata, perché ne fu in tutta penetrata e non potendo più sostenerla gli chiesi di aver chietà della mia debolezza. Sarò la tua forza, mi disse, non temere niente, ma stai attenta alla mia voce e a ciò che ti chiedo per disporti al compimento dei miei esegni. C'è una seconda parte di questa terza apparizione che leggeremo subito dopo una breve lezione comune su quello che abbiamo appena ascoltato. Gesù nuovamente scopre il petto e ciò che è meglio descrivere, ciò che c'è nel suo cuore, sono le fiamme. Le fiamme sono simbolo, abbiamo visto due domeniche fa, la Pentecoste, sono simbolo dello Spirito Santo, sono simbolo del fuoco, dell'amore. E infatti questo petto gli era descritto come rassomigliante ad una fornace e abbiamo sentito poi come Gesù, attraverso un fenomeno mistico straordinario, abbia fatto uscire una fiamma viva fino a raggiungere, toccare il cuore di Santa Margherita che è penetrata da quella fiamma e sentì di non poterla sostenere tanto era forte e vehemente la violenza, si potrebbe dire, la forza dell'amore di Gesù. E il cuore di questa prima parte sono le parole stesse che lui dice, premesse da queste parole di Santa Margherita, mi svelò le meraviglie inesidicabili del suo buro amore. L'amore di Gesù è qualcosa che non è spiegabile con parole umane, specialmente i mistici che ne hanno fatto diretta esperienza, non trovano, tutti quanti attestano questa difficoltà, non trovano le parole adeguate per poter parlare di questo mistero. Qualunque santa o mistica autentica che si vada a conoscere, a leggere, presenta questo minimo comune denominatore. non sono in grado con le parole per quanto le moltifichino, per quanto cerchino in tutti i modi possibili di esaltare, di evidenziare, di sottolineare l'amore di Gesù, si trovano sempre al di qua. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. Che di Gesù anche ora, possibilmente quando è esposto dal suo trono meristico, è una fornace ardente di puro amore per tutti, anche se noi purtroppo a causa della nostra miseria e insensibilità, non ce ne accorgiamo a livello sensibile. E che cosa dice? Soffre per le ingratitudini e le indifferenze degli uomini. È quasi commuovente quando dice queste parole. Se mi rendessero un po' d'amore in cambio, non dice tanto, non dice un po', un pochino, e invece non hanno che freddezze e ripulse per tutte le mie amore a fare del bene. E chiede a questa santa, tu almeno, dammi questo piacere di subire alle loro ingratitudini. come vedremo in questa frase c'è già una significativa rivelazione di ciò che sta aggiungendo nella seconda parte del loro colloquio. e qui per il nostro silenzio dovremmo chiederci se noi rendiamo un po' l'amore in cambio a Gesù. Un amore non freddo, un amore non fatto di chiacchiere o di tante domande quando preghiamo, eccetera, un amore fatto di affetti nel segreto del nostro cuore espressi a Gesù formulati o anche semplicemente dati quando si ama non serve parlare tra l'altro uno sguardo basta a dire tutto. Gesù mi vede i nostri sguardi adesso come lo stiamo guardando se lo stiamo guardando i nostri sentimenti i nostri pensieri ci chiederemo poi se Gesù apparisse a noi se ci potesse dire queste cose ma mi rende almeno un po' l'amore per tutto l'infinito amore che io ho avuto ed ho per te e che pulsa nel santissimo sacramento dell'Aftara. Riprendo la lettura a questa promessa personale che lascia supporte che la serie delle dichrazioni non è chiusa il sacro cuore aggiunge alcune prestizioni pratiche che valgono in primo luogo per la sua confidente ma che varranno anche per tutte le anime perché sono condizioni per l'applicazione dei punti della redenzione. dice Gesù per prima cosa tu mi riceverai il santo sacramento per quanto l'obbedienza te lo consentirà le mortificazioni e le omidiazioni che te ne verranno dovrai riceverle come pegni del mio amore ti comunicherai inoltre il primo venerdì di ogni mese ora ascoltate bene e tutte le notti dal giovedì al venerdì ti farò partecipe di quella mortale tristezza che ho provato nel nord dell'unico la quale tristezza ti ridurrà senza che tu possa comprenderlo a una specie di amonia più aspra da sopportare della morte e per accompagnarmi in quell'umine preghiera che allora in mezzo alle mie osce presentai al Padre mio ti alzerai tra le undici e mezzanotte per prostrarti con volto a terra per nuova insieme a noi e questo sia per plagare la Divina Cordera col chiedere misericordia per i peccatori sia per addolcire in qualche modo l'omarezza che provavo per l'abbandono da parte dei miei apostoli che mi costrinse a riprovelarmi in una versa molto vegliare un'ora con me e durante quest'ora tu farai ciò che ti insegnerò ma ascolta figlia mia non credere con leggerezza ogni spirito e non fidarti perché Satana è furioso e vuole ingannarti per questo non fare niente senza l'approvazione di coloro che ti guidano perché essendo tu autorizzato dall'operienza il demonio non possa ingannarti ascoltate bene non avendo nessun potere su coloro che obbediscono per commentare adeguatamente questa seconda parte della rivela di questa terza apparizione ci vorrebbero delle lunghe puntualizzazioni saremo per lasciare spazio alla preghiera personale e poi alla preghiera comunitaria con la riparazione al quale di Gesù allora notiamo come questa seconda parte comincia con l'obbedienza e finisce con l'obbedienza e riceverai il santo sacramento per quanto l'obbedienza te lo consentirà noi oggi forse non capiamo questa espressione ecco perché la disciplina della chiesa è cambiata e quindi non comprendiamo cosa significa questa frase ma un tempo per poter accostarsi alla comunione anche se tu stavi in grazia di Dio dovevi avere l'autorizzazione esplicita del confessore o del padre spirituale nessuno poteva accostarsi alla santa comunione senza che il confessore o il direttore spirituale avesse dato ok voi capite che tra questo che è un sistema certamente molto severo e però quello che si vede oggi che ci si accosta alla comunione con estremissima leggerezza io parlo sapendo quello che dico perché sono 13 anni che sono sacerdote bisognerebbe trovarlo nel rimezzo quindi San Paolo dice di esaminarsi asserdentamente prima di accostarsi al sacramento dell'altare e per evitare di andare a mangiare e bere la propria condanna ricordando quanto meno che la comunione frequente esige la confessione frequente e che bisogna fare sempre estrema attenzione a non accostarsi mai alla santa comunione se sia anche solo il dubbio di aver peccato gravemente poi comincia il Signore a parlare di ciò che avrebbe spiegato meglio più avanti lo vedremo speriamo nelle prossime orazioni il primo venerdì del mese ti comunicherà inoltre il primo venerdì di ogni mese e poi rivela in questa terza apparizione l'ora santa tutte le notti dalle 21 alle 24 e io avevo detto ai fedeli che l'ora adeguata per fare l'ora santa sarebbe l'ora santa come ha chiesto Gesù a Santa Margherita la tristezza di Gesù non era la tristezza né davanti alla morte né davanti alle sofferenze che l'aspettavano né davanti a tutto il male di cui era soffissato non c'è niente che è tutto questo la tristezza di Gesù è la derivante la cosa più importante dal fatto che molte anime nonostante tutto quello che stava per fare sarebbero dannate e ci sarebbe stata questa mancata corrisponsione a tanto amore che Gesù stava corrispondendo questa è la causa di Cimari ed è per questo che dice addolcire in qualche modo l'amarezza che trovavo per l'abbandono da parte del nostro dei primi purtroppo a cadere e proprio quella notte furono gli apostoli c'era il grande filosofo Pasquale che disse che scrisse delle parole molto belle a proposito di questo particolare di vedere Gesù Dio che chiede l'aiuto di tre uomini Pietro, Giacomo e Giovanni dice state con me e vegliate con me tre volte dicono i Vangeli va a controllare se stavano svegli e tre volte li trovo a dormire e Pasquale scrisse dice come mai Gesù in questa circostanza lui che è Dio chiede aiuto agli uomini in quel modo così accurato mi raccomando svegliate vado a compagnia non dormite lui dice perché cominciava a sentire il mistero enorme dell'abbandono del Padre quella solitudine profonda che derivava dall'essere carico proprio letteralmente carico dei peccati di tutta l'umanità e il peccato ecco che è il peccato è come dire è l'antidio per l'antormansia è proprio la negazione di ciò che Dio è è orrore e quindi capite noi sappiamo che il peccato anche se non siamo consapevoli separa il peccato mortale causa una separazione tra l'anima e Dio una distanza ecco immaginate che Gesù senza essere ovviamente peccatore però fin dal Gessè si è preso su di sé si è fatto carico di tutti i peccati di tutta l'umanità a partire dal peccato originale fino all'ultimo peccato metterà l'ultimo uomo e sarà presente sul pianeta terra cioè noi non possiamo assolutamente renderci conto di una cosa di questo genere no? e quindi il sentire tutto questo una gamma di male attosso in qualche modo lo faceva sentire separato dal pane ecco perché capite il peccato è odiato da Dio il peccatore no ma il peccato sì il peccato attira la colla della divina come abbiamo sentito qui e Gesù chiede passa un'ora prostrata col volto a terra insieme con me perché prostrata col volto a terra per riprodurre in qualche modo la preghiera che Gesù fece nell'otto Gesù ci dicono i Vangeli pregava prostrato quindi sapete che pregare prostrati col volto a terra significa da un lato è proprio la massima forma di adorazione possibile di umiliazione a Dio non proprio nulla ma anche esprime la preghiera proprio di supplica corato di richiesta di aiuto urgente impellente a tutti i costi ecco e questo dice Gesù sia per pagare la divina e sia per addolcire in qualche modo l'amarezza che provavo per l'abbandono da parte dei miei apostoli e non solo degli apostoli ma negli apostoli c'erano tutti gli abbandoni di tutti gli uomini e ancora più grave purtroppo la dannazione di tantissime anime nonostante quello che Gesù era venuto a fare e stava per fare per loro noi per quanto ci sforziamo con le parole umane di penetrare in questi misteri però siamo sempre molto lungi qua purtroppo una leopera di Dio ci ricorda che ci si mette sempre di mezzo Satana e c'è solo un sistema questo vale non soltanto per i mistici che devono fare discernimento su queste rivelazioni che poi Santa Madre Chiesa fa l'ultimo discernimento per vedere e per verificare se sono cose che vengono da Dio o dal demonio ma se noi vogliamo in qualunque circostanza della vita essere certi di non essere guidati da spiriti cattivi dobbiamo ricordare che solo l'obbedienza ci salva è chiaro che per noi l'obbedienza non è non abbiamo delle forme di obbedienza istituzionale non siamo religiosi non siamo consagrati ma possiamo però chiedere aiuto tutti al padre spirituale cercando o al confessore specialmente sulle cose dubbie o sulle cose in cui non siamo certi possiamo questo chiaramente è una scelta volontaria scegliere di affidare il giudizio o quantomeno essere aiutati nel giudizio a qualcuno che sia costituito in autorità perché il problema è che molte volte noi siamo convinti e pensiamo di fare cose buone ma così non è e così come altre volte magari pensiamo di fare cose che non vanno bene ma invece può succedere che non è fatto bene così non sia solo Dio è in grado di autocondursi e di fare da solo noi dobbiamo avere tutti l'umiltà di chiedere aiuto perché senza questo aiuto che non è certamente prescritto sotto pena di peccato ma rischiamo di diventare anche inconsciamente una specie di marionetto di corattino e ne mai vediamo siamo convinti di fare cose buone ma invece magari è possibile che siamo incarnati e c'è bisogno di qualcuno che c'è e quindi ne comprende in grado che qualcuno è solo un uomo di Dio legittimato certamente dalla Chiesa a poter esercitare un mistero sacro che possa aiutarci a discendere in forza dell'obbedienza siamo adorati e ringraziati ogni momento e santissimo e bellissimo sacramento grazie a tutti grazie a tutti